Abbiamo un bel problema, mi hanno appena comunicato che la mia prenotazione per stanotte è stata cancellata Non abbiamo più un posto dove dormire stanotte, mi sa che ci toccherà allungare di nuovo la tappa Oggi siamo sulle Dolomiti, precisamente al lago di Braies, che oltre a essere un lago veramente bellissimo è anche l'inizio di una delle alte vie più famose d'Italia, ovvero l'alta via 1 delle Dolomiti Noi la percorreremo tutta nei prossimi giorni con lo scopo di testare tutto l'abbigliamento, gli scarponi e lo zaino di DF Mountain Un marchio che ha fatto del suo punto prezzo uno dei suoi cavalli di battaglia Noi lo testeremo, lo metteremo alla prova il più duro possibile per verificare se è veramente uno dei migliori marchi low cost d'Italia Ma iniziamo perché ci aspettano più di 100 km di trekking Appena partiti dal lago di Braies ci troviamo di fronte a una salita di oltre 800 metri di dislivello di cui la prima parte proprio sopra il lago Una valle stretta, chiusa, dove ristagna l'aria e non c'è un briciolo di vento Sono solo le 9 e mezza di mattina e già si muore di caldo, veramente Sto già cercando l'ombra Oggi sarà una giornata veramente calda Ma non facciamo in tempo ad abituarci al caldo che arriva il primo grande imprevisto della giornata La neve Immaginavamo di trovarci ad affrontare una situazione simile ma non immaginavamo potesse essere così tanta Per la nostra fortuna però la neve era molle ma portante Dandoci modo di provare subito la tenuta degli scarponi Ed eccoci alla forcella Devo dire che è stato divertente salire Soprattutto è stato un po' tecnico nel senso che c'era tanta tanta neve Traversine anche non proprio semplici Però mi hanno veramente stupito gli scarponi Perché nonostante abbiamo deciso di non mettere i ramponcini perché non ce ne aveva bisogno Ha tenuto veramente bene Hanno una tassellatura questi scarponi che a me ha convinto Sara? Sì concordo devo dire che non è stato semplice salire per colpa della neve appunto Però scarponi promossi davvero mi sono sentita sicura Da rifugio Bielle in poi il sentiero si fa tecnicamente più semplice Regalandoci la possibilità di ammirare tutta la bellezza di queste montagne Passando prima da rifugio Senes e dopo una lunga discesa fino al Pederù Ci troviamo ad affrontare la seconda salita di giornata nelle ore più calde del pomeriggio Questa salita a Fanny è stata veramente tosta Un caldo tra il sole che bruciava sulla pelle Sembrava essere quasi in un forno Però 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 Si è dato modo di provare la traspirabilità dei capi La mia maglia e il pantalone veramente Tanta roba Cioè Leggerissimi e super traspiranti Lo zaino Un pochino nella media diciamo Sara? Sinceramente la stessa cosa Sembrerò banale ma Mi ha stupito molto la maglietta ma anche il pantalone Davvero traspiranti Non me la sento attaccata addosso Ma è bene Devo dire che Sì Ci siamo Oggi ripartiamo Perché ci aspetta una bella tappa Bella lunga Soprattutto oggi dovremo correre Perché per stasera mettono temporali Quindi ci muoviamo E vediamo anche un po' Come andrà tutto L'attrezzatura Soprattutto sui neve Adesso vi faccio vedere dove dobbiamo arrivare Iniziamo la seconda tappa percorrendo l'altopiano di Fannes E anche qui non è mancata la fortuna Perché lo abbiamo trovato completamente allagato Complice lo scioglimento della neve Abbiamo avuto modo di testare per bene l'impermeabilità degli scarponi Fino a che non ci siamo trovati di fronte a questo Piccolo aggiornamento Noi saremmo dovuti passare per questa forcella Però secondo me è anche fin troppo alpinistica con tutta questa neve Quindi dato che non abbiamo Nei ramponi, nei piccozze, nei nulla Ci allunghiamo un po' E la riprendiamo da un'altra parte Peccato perché non sembrava male Però prima la sicurezza Allungare la tappa però Non vuol dire soltanto aggiungere chilometri Ma vuol dire anche affrontare una delle peggiori discese di tutta l'alta via La ripita discesa che porta alla capanna alpina Infatti presenta alti gradoni, rocce instabili E una pendenza che non scende mai sotto la doppia cifra Discesa, spacca, ginocchia, andata Vorrei fare però una menzione di onore ai bastoncini Perché io sto provando quelli telescopici in carbonio E oddio mi sono trovato veramente bene Soprattutto in una discesa così Dove sono fondamentali per scaricare un po' di peso Ad evitare di buttarsi giù Io mi sto trovando veramente bene Sara? Io ho quelli a tre vie per intenderci Sono veramente leggeri Anch'io mi sono trovata molto bene in discesa Proprio fondamentali devo dire Ora però, avendo perso diversi metri di quota La seconda salita di giornata è diventata molto più dura del previsto Percorrendo prima la pista rossa da sci Fino al rifugio Scottoni E poi il canalino che ne segue Siamo riusciti a tornare sul percorso originale dell'alta via Da qui però le condizioni del sentiero cambieranno drasticamente Se stamattina ce la si è incavata Ad evitare la neve A giù con un rigio invece no Si tocca un bel po' di metri di slivello Tutti su neve La salita alla forcella alla Gazzuoi Si rivelerà una delle più tecniche dell'alta via E anche uno dei test più severi per l'attrezzatura Il grip degli scarponi La resistenza termica E resistenza al vento dell'abbigliamento Ci hanno permesso di arrivare alla forcella Senza difficoltà Anche se nel punto più alto Il vento si faceva veramente sempre più forte Sta forcella alla Gazzuola ci ha veramente fatto dannare Sia a salire tantissima neve Ma anche a scendere Fattinavamo sulla neve Ma soprattutto il vento Davvero un vento forte e freddo Menzione però a fatti a questo secondo strato Perché tiene veramente molto bene il vento Devo dire Secondo me Sicuramente non sostituisce una arcella Però lo tiene abbastanza bene il vento Praticamente fate conto Che abbiamo fatto la forcella Senza mai indossare l'arcella Quindi direi veramente top Ma la nostra giornata non finisce qui Abbiamo l'ultima salita da fare Fino al rifugio Scoiattoli Passando per le 5 torri E poi finalmente Al rifugio Averau Anche oggi tappa veramente molto dura Poi adesso si è alzato veramente un vento freddo Per fortuna che siamo quasi arrivati all'Averau Tappa dura Soprattutto questa seconda salita Terza salita Che arriva su Scoiattoli Averau Davvero dura Una cosa positiva però Sono praticamente quasi dieci ore Che stiamo camminando Da quando siamo partiti dal Fanes E io con lo zaino Mi ci trovo veramente bene Scarico del peso Veramente top Io ho dentro 11 kg 12 con l'acqua E mi sembra quasi Di non averlo Da su con la via in cappello Sara? Sì anche per me È ben promosso Da oggi la nostra altavia Cambia completamente Perché se nei giorni precedenti Abbiamo preso sole, caldo Abbiamo provato la traspirabilità Ecco che nei prossimi giorni Mettono temperature basse Stamattina Siamo partiti con 6 gradi E soprattutto Mettono anche tante precipitazioni Quindi la nostra altavia Cambia completamente E faremo dei test completamente diversi Anche sull'attrezzatura Ma andiamo Perché anche oggi Purtroppo mettono acqua Le temperature basse E le nuvole sopra di noi Non ci hanno impedito Di goderci il percorso Verso uno dei punti Più iconici delle Dolomiti Il passo Jiao Ma noi andremo oltre Il passo asfaltato Arrivando fino alla forcella Jiao Senza però farci mancare I soldi traversi su neve Ed anche forcella Jiao Raggiunta Come al solito Il previso di meteo Ci azzeccano Quel che ci azzeccano Stamattina si morirà di freddo Ora si muore di caldo Però meglio così Piuttosto che prenderci l'acqua Naturalmente qua in forcella C'è un bel vento Però adesso ci mettiamo Un secondo strato E poi si continua Sull'alto pieno di Mondeval Ora regna il silenzio Interrotto soltanto Dai fischi delle marmotte Arriveremo così Fino a forcella Ambrizola Con vista su Cortina Fino a vedere poi Sempre più vicino a noi Il Monte Pelmo Da qui Una lunga discesa Lungo strade bianche Gli aioni E poi in un sottobosco umido Pieno di fango Ci permetterà di concludere Il test agli scarponi E di arrivare Al punto tappa di oggi Anche questa tappa L'abbiamo portata a casa Sotto una bella pioggerellina Ma non parliamo degli Arshell Ma bensì degli scarponi Perché oggi Tappa lunga Anche lei Però Meno di slivello Diciamo Molti più chilometri Rispetto che di slivello E soprattutto Abbiamo provato Gli scarponi In tantissime superfici Dalla strada bianca Single track Anche alla ghiaia Diciamo Ai ghiaioni Fino alla neve Che quella non manca mai Dobbiamo dire che Tengono abbastanza bene Su fango Neve Davvero Ci sono trovati bene Meno su roccia Bagnata Soprattutto perché Questa sua XS track Soprattutto dei miei Dosde Non è sicuramente La più Grippante Di casa Vibram Però devo dire Che siccome Anche lo scarpone Non è per nulla male Soprattutto dopo Tutti questi chilometri Il piede sta ancora bene Oggi è ufficialmente L'ultimo giorno Di test Non facciamoci ingannare Da questo sole Qua dietro Perché Le previsioni Non parlano bene Tra una mezz'oretta Dovrebbe piovere Però poco male Dai Finsa che è la volta buona Che proviamo per bene L'Arcello Superato il primo tratto Di salita Fino al rifugio Col Dai E' iniziata la parte Più difficile Tutta l'Altavia Forti raffiche Di vento freddo Indicavano che il tempo Stava cambiando Ed era arrivato il momento Di cambiarsi E testare l'Arcello Oggi c'è veramente Un freddo Ma freddo C'è un vento Che Ho dovuto mettere su L'Arcello Per proteggermi dal vento Perché secondo strato Non bastava Ma davvero ragazzi Che freddo Da qui il sentiero Era completamente Scomparso sotto La neve E come se non fosse Abbastanza Iniziava ad arrivare Anche le prime Gocce di pioggia Giunti al rifugio Vazzola Il tratto più difficile Era ormai Alle nostre spalle E per qualche secondo Si è addirittura Mostrata a noi Anche la torre Trieste Ma da lì a poco Però Le cose stavano Per cambiare Un'altra volta Questo è il test Definitivo Per tutta l'attrezzatura Perché Siamo in un bosco Tasto di umidità Altissimo Saremo oltre il 90% In salita Non c'è un filo d'aria Vi assicuro Se L'attrezzatura Resiste A tutta questa umidità Davvero Tanta roba Noi continuiamo Perché di stracce C'è da fare E tra l'altro Sta anche iniziando a piovere Quindi dovremo Rimettere l'Arcello La salita Alla forcella del camp È stato il test Estremo Che stavamo cercando Il tasso di umidità Estremamente alto Affaticava il respiro E rendeva il sentiero Pericolosamente scivoloso Usciti da questo Primo tratto nel bosco Le nuvole basse E il fondo ghiaioso Complicavano ulteriormente Il nostro cammino Arriviamo infine Alla forcella Con fiato corto E con immorale Completamente a terra Forcella Conquistata Penso una delle più dure Che si sono conquistate In vita nostra Soprattutto perché Si sudava tantissimo E l'abbigliamento Do dire va veramente bene Ma poi di questo Ne parliamo perché Continua a piovere E ne parliamo più avanti Ora si scende Che la tappa È ancora lunga Ma la vera Brutta notizia di giornata Doveva ancora arrivare Abbiamo un bel problema Mi hanno appena comunicato Che la mia prenotazione Per stanotte È stata cancellata Non so di preciso Perché Per come Non è adatto a saperlo Ma Non abbiamo più un posto Dove dormire stanotte Adesso Arriviamo al rifugio Crestiato E capiamo Cosa fare Anche perché Il rifugio è chiuso Mi sa che Ci toccherà allungare Di nuovo la tappa Giunti infine Al rifugio Crestiato Abbiamo preso Consapevolezza Che avremmo dovuto Definitivamente Abbandonare L'alta via Ma il maltempo Doveva ancora dare Il peggio di sé L'ultime due ore Di discesa Demoralizzati Per la scelta Di dover Lasciare l'alta via Sono state Le più bagnate Di tutto il viaggio Una pioggia torrenziale Aveva deciso Che fosse il momento Di stabilire Il verdetto finale Per questo Arshell Ma arrivati Infine Ad Agordo Non ci restava Che tornare a casa Ed eccoci qua È passato qualche giorno Da quando siamo tornati Da questa alta via Come avete visto Abbiamo preso Un sacco di acqua Nell'ultimo giorno E dunque Arriviamo al verdetto finale Sui gusci Come avete visto dal video Abbiamo preso Veramente ore E ore E ore Di acqua Quindi Possiamo dire Che come guscio Ci siamo trovati Veramente molto bene È leggero Non abbiamo avuto Problemi di impermeabilità Alla fine a tutte le regolazioni Che ha un qualsiasi altro guscio In commercio Quindi nonostante Il prezzo basso Magari possa Indurvi a pensare Che non sia valido Ecco Siamo qui proprio Per smentirvi L'unico aspetto Su quale magari Porrei un attimo L'attenzione È la traspirabilità Nel senso che Sicuramente L'impermeabilità È su punto di forza La traspirabilità È una cosa che c'è È abbastanza commisurata Come tipo di guscio Ma non aspitatevi Naturalmente È un guscio Super traspirante Parlando invece Del piumino Questo è un capo È utilizzato praticamente Solamente le sere Il rifugio Però ci ha convinto Ci è piaciuto Perché tiene veramente bene Dal punto di vista termico Noi abbiamo utilizzato Quando sono usciti Magari le sere Nel rifugio Anche a 3-4 gradi Senza nessun problema Ci piace molto Che sia Double fast Quindi si può Benissimo Andare ad aprire In modo tale Da avere anche Un colore diverso Rispetto a quello Originario Nella parte interna E soprattutto Poi si va a richiudere Tranquillamente Nella sua taschina Diventa piccolino Abbastanza piccolo Ecco magari Sulle dimensioni Sul peso Non è sicuramente Suo punto di forza Però Non va molto lontano Da piumini Sicuramente più famose Che costano anche di più Un piumino Che anche lui Dal suo punto di vista Qualità prezzo Davvero Ci è piaciuto abbastanza Bastando invece L'abbigliamento in generale Ci è piaciuto Veramente Veramente tanto È un abbigliamento Che non direste mai Essere di un marchio DF Ma anzi È veramente Di una qualità Sorprendente Leggeri Comodi Confortevoli Fanno quello Che promettono Sono davvero Dei capi Che ci hanno stupito Sì come avete visto Abbiamo utilizzato la traspirabilità Questo completo arancione Che abbiamo utilizzato entrambi È un pochino più rosino Quello di Sara Veramente Lavora benissimo Cioè È davvero super traspirante Non c'è dato nessun problema Anche salendo al fanes Si moriva di caldo Si moriva di caldo Veramente bene Anche il completo L'altra maglietta Un pochino più Diciamo Normale Non così traspirante Comunque Lavora anche lei Veramente bene Per le giornate Un pochino più Fresche Pantalone lungo Anche lui Davvero bene Ci piace tantissimo La chiusura superiore Che non ha bisogno Di nessuna cintura Perché ha già Un cordino interno Pantalone poi Che è un pochino Edrorepellente Nel senso che L'acqua Non entra subito Un pochino Edrorepellente E poi la chiusura inferiore Quando l'abbiamo trovato Tutta la neve La possibilità di chiudere Il pantalone Sullo scarpone Evitare che la neve Entrasse all'interno Lo scarpone È stato veramente il top Secondo strato Anche questo Assolutamente promosso Il mio era un po' più termico Quello di Riccardo Un po' più leggerino Però io Mi sono trovata davvero bene Il mio aveva anche Il cappuccio Comodissimo E mi ha aiutata tantissimo Soprattutto Alla forcella Ragazzuoi A proteggermi Dal vento freddo Passando invece agli zain Il modello Iger Da 40 litri Io il modello Codera Da 35 Zaino Iger Secondo me È veramente fatto bene Il colore nero Può piacere Può non piacere Però a livello di traspirabilità Davvero nessun problema Scarico del peso Abbiamo fatto tappe A 12 ore Con 12 kg sulle spalle È andato da dio Un sacco di taschine Anche la parte anteriore Una bella desicene Per attaccare qualcos'altro Devo dire davvero Uno zale che personalmente Reutilizzerei Al 300 volte Per rifare l'alta via Parlando invece del Codera Molto bene scarico del peso Molto bene la traspirabilità Davvero non mi ha dato Nessun problema di dolore Alle spalle L'unica pecca Che posso dire Di questo zaino Per il quale Magari non lo ricomprerei È il litraggio Nel senso che Per come è stato strutturato Lo zaino in particolare Rispetto alle tasche Diciamo che il litraggio È di 35 litri Ma non si riesce A sfruttarlo appieno Come si vorrebbe Infine Gli scarponi Io ho provato il modello Dosdale 2.0 Per me Idofur 5 Allora Modello che come abbiamo visto Lavora abbastanza bene La suola Sì Ma non su roccia bagnata Per il resto Ha una tasselatura Che lavora veramente Molto bene In generale Uno scarpone Col quale ci abbiamo fatto In totale 150 km Tra l'alta via E qualche tappa Prima dell'alta via Uno scarpone Che personalmente Riutilizzerei L'unica pecca Nel senso L'unico dettaglio Sul quale magari Fare un po' di attenzione È con uno scarpone Abbastanza termico Nel senso che Non lo utilizzerei Magari in delle giornate Veramente tanto tanto calde Non ci siamo trovati bene Perché comunque Abbiamo trovato Abbastanza delle temperature Fresche Però anche per quanto riguarda Poi l'impermeabilità Non usa una membrana convenzionale Usa una membrana sua Ma non ci ha dato Nessun problema Per i Dofur 5 Stesso discorso Ottima suola Mi sono sentita Veramente sicura A camminare Su qualsiasi tipo di superficie Fatta eccezione Per la roccia bagnata Che è un po' Il suo punto debole Come abbiamo già detto Ottimo sostegno Quindi davvero perfetto Per trekking Di più giorni E l'unica pecca Appunto come dicevamo È un po' L'imbottitura Che insomma Non è proprio l'ideale Per i periodi Un po' più caldi Infine a livello di accessori Bastoncini Come dicevamo Io ho provato i telescopici Mi sono trovato Veramente molto bene In carbonio Leggeri Un ottimo sostegno E soprattutto Poco i vibrazioni Personalmente Penso che andrò avanti A utilizzarli Per il resto Dei miei trekking Che farò in tutto l'anno Io ho utilizzato Quelli a tre vie Anche loro Molto stabili Senza particolari Vibrazioni Un'impugnatura Bella solida Bella comoda Veramente Mi sono trovata Benissimo Infine Noi abbiamo provato Anche il saccoletto I ramponcini Sono abbastanza classici Sono abbastanza comuni Nel senso A livello sia di peso Sia di dimensioni Non abbiamo avuto Nessun problema Comunque Ci hanno aiutato Nel momento in cui Li abbiamo utilizzati Quindi anche loro Il rapporto qualità prezzo Sicuramente È molto molto elevato E detto ciao ragazzi Questa è tutta l'attrezzatura Che abbiamo usato Per la nostra Alta via Se avete altre domande Mi raccomando Qua sotto in descrizione Cerchiamo di rispondere a tutti E nella speranza Che sia stato esaurante Ed esaustive Anche per questo video Vi ringraziamo Per averlo guardato E noi ci vediamo Al prossimo Ciao Ciao